Quando parlo di democratizzazione del cibo parlo proprio anche in maniera specifica del progetto Alta è quello di aver creato un modello di ingegnerizzazione dell'offerta gastronomica, quindi spesso si pensa che fare grandi numeri non vuol dire fare qualità, ma invece la sfida è proprio questa, è dove sta andando la mia ricerca, quindi partendo dall'alta ristorazione, dal mio ristorante, dai laboratori che ho, riuscire a creare dei prodotti che dialogano con la strada, accessibili, quindi Alta è un'offerta pop, un'offerta semplice, un'offerta per tutti, ma la voglia era quella di attualizzare un modello pop, ma attualizzarlo non solo dal punto di vista proprio del palato, ma anche dal punto di vista della qualità intrinseca.